E poi? Cosa dice? Gira, gira che ce la fai, gira, è quasi a posto. Gira ancora un po', lo fa papà, stai lì, stai lì, vai lì, vai lì, lo prende papà. Non ce la fa neanche papà? Bravo! E poi? Vai, vai, prendi l'altro. E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? Vai, vai, prendi l'altro. Prendi l'altro, prendi l'altro. Hai visto? Si vede il tavolo. Vai là, vai là. Vai a mettere quell'albero giusto, dai. Riesci? Ti aiuta papà? dammi dammi l'albero dammi dove è andato? dove è andato l'albero? dove l'hai messo? l'hai buttato per terra? ah è là è là prendilo ecco dietro di te prendilo ecco prendilo dai bravo viva batti le mani ecco ecco quasi quasi